ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi per motivarci sia io che voi un nuovo video motivazionale andrò a mettere in ordine a pulire la sala saranno cinque giorni in cui metterò a posto le cose di tutti i giorni diciamo più qualche pulizia straordinaria quindi adesso io vi lascio al video e noi ci sentiamo dopo ciao a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sui mobili. a tutti.